Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Proprio in queste ore sono trapelati dei clamorosi aggiornamenti sulla principessa del Galles. Un suo caro zio è intervenuto in diretta televisiva a fornire delle preziose informazioni. Gary Goldsmith, zio della principessa del Galles, è entrato a sorpresa nella casa del grande fratello VIP britannico. La notizia non è stata particolarmente gradita dalla famiglia reale, che è fortemente preoccupata che l'uomo possa creare qualche serio imbarazzo. Per i Middleton, Goldsmith rappresenta la pecora nera della famiglia, anche perché ha precedenti preoccupanti. Lo zio ha anticipato, Kate non sta molto bene. Il 58enne non gode di buona fama oltre la manica, anche perché in passato ha anche subito una condanna per aver picchiato la moglie mentre era ubriaco. Potrebbe spifferare alcuni segreti della famiglia reale e altre notizie sulle condizioni di salute della stessa Kate, si legge sul The Independent. Viene facile credere che, tra le mura del reality, l'uomo possa mettere in imbarazzo la famiglia reale, facendosi scappare rivelazioni scottanti sulla famiglia reale e, soprattutto, sulla principessa. Questa partecipazione al GF Made in UK sembra davvero inopportuna a molti, ma il 58enne non sembra curarsene e non intende farsi scappare questa occasione.